bonus cultura il tribunale assolve un commerciante morì per cirrosi epatica risarcimento di un milione di euro agli eredi di una donna caltanissetta trentenne denunciato dalla polizia per furto aggravato asili nido comunali ammessi altri 15 bambini parla l'assessore alle politiche sociali cettinan da loro stadio marco tomaselli il punto su linee del rettangolo di gioco e omologazione sport calcio nissa dimissioni del direttore sportivo massimo ferraro intervento del presidente sergio iacona il fatto non è previsto dalla legge come reato con questa formula il tribunale di caltanissetta assolto un commerciante nisseno accusato di avere violato le disposizioni previste dal bonus cultura che era stato approvato negli anni scorsi dal governo renzi in particolare il commerciante secondo quanto emerso dalle indagini di procura e guardia di finanza aveva consentito ad alcuni studenti di acquistare dispositivi quali smartphone e tablet invece di materiale didattico così come previsto dal bonus cultura nel corso delle indagini era scattato anche il sequestro di alcuni beni e conti correnti per quasi 330 mila euro anche se poi l'importo dei beni sequestrati era stato ridotto a seguito dei ricorsi presentati dalla difesa la procura aveva chiesto la condanna dell'imputato a otto mesi e l'avvocato dello stato giuseppe la spina legale di parte civile per conto del governo nazionale aveva chiesto il risarcimento dei danni su tutt'altra lunghezza d'onda gli avvocati difensori giuseppe pane pinto e giuseppe di buono i quali nel chiedere la assoluzione del loro assistito hanno sottolineato come il commerciante avesse sempre regolarmente presentato tutta la documentazione relativa al suo lavoro dalla quale emergeva che nel novero degli acquisti da effettuare erano previsti anche quelli dei libri elettronici gli ebook e dei relativi dispositivi per leggerli quali appunto computer smartphone e tablet i difensori hanno anche evidenziato come la vicenda chiusasi con una soluzione abbia segnato la vita del commerciante che è stato costretto a chiudere l'attività a seguito dei sequestri a licenziare otto dipendenti la sezione civile della corte d'appello di calta nissetta ha condannato il ministero della salute a versare un risarcimento da un milione di euro agli eredi di una donna nissena deceduta a causa di una cirrosi epatica contratta a seguito di una trasfusione di sangue infetto una vicenda che affonda le sue radici nel tempo visto che la trasfusione venne eseguita nel 1972 poi l'insorgere dell'epatite c sfoggiata in una cirrosi epatica anni di sofferenze fino al decesso della donna nel 2009 all'età di 64 anni i figli della sfortunata 64 anni hanno quindi chiesto che venisse accertata la responsabilità del ministero della salute e il loro legale l'avvocato ivano costa aveva presentato ricorso le perizie effettuate nel corso del giudizio civile avevano accertato il collegamento tra la trasfusione e l'insorgere della malattia ma in primo grado il risarcimento non era stato concesso in quanto nel 1972 non vi era ancora una conoscenza scientifica della possibile veicolazione del virus dell'epatite c isolato solo nel 1978 attraverso il sangue infetto e che dunque il ministero non aveva violato alcun obbligo di vigilanza l'avvocato costa aveva però presentato appello e stavolta i giudici di secondo grado hanno stabilito nella loro sentenza che in ogni caso il ministero della salute ha comunque l'obbligo di vigilare attentamente sulla preparazione e sull'utilizzazione del sangue degli emoderivati per prevenire e impedire la trasmissione di malattie non è il primo caso del genere che viene analizzato dai giudici nisseni in passato infatti sono stati concessi altri risarcimento per trasfusioni di sangue infetto in molti casi risalenti agli anni 60 e 70 quando i controlli erano meno accurati e le sacche contenenti sangue infetto rischiavano di girare con maggiore facilità i poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale procura della repubblica un trentenne per furto aggravato l'uomo avrebbe usufruito di acqua ed energia elettrica nella propria abitazione grazie agli allacci abusivi nei condatori dei vicini gli agenti della polizia di stato lunedì pomeriggio di seguito a una segnalazione pervenuta alla sala operativa della questura sono intervenuti in un'abitazione del centro storico dove hanno constatato la presenza di collegamenti eseguiti in modo rudimentale nel vano condatori dello stabile sul posto sono intervenuti anche i tecnici degli enti gestori dei servizi enel distribuzione e caltacqua che hanno accertato la manomissione dei condatori e rimosso gli allacci abusivi quattro persone nel dettaglio due imprenditori e due committenti dei lavori sono state denunciate dai carabinieri dopo una serie di controlli in due cantieri edili di san giovanni gemini e castrofilippo nel primo caso è arrivata la denuncia per l'amministratore unico di una ditta edile di san giovanni gemini per deposito di materiale sulle impalcature ponteggio di forme rispetto a quello previsto e mancanza di scale fisse in costruzione stesso destino per la committente dei lavori una donna 37enne sempre di san giovanni gemini denunciata per omessa nomina del coordinatore di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori a castrofilippo il titolare di un'impresa edile è stato denunciato a piede libero con l'accusa di non avere predisposto la sorveglianza sanitaria dei dipendenti oltre che per la mancata consegna di dispositivi di protezione individuale della redazione del piano di sicurezza e dell'installazione del quadro elettrico di cantiere i militari dell'arma hanno pure accertato la presenza di un lavoratore in nero denunciata anche la committente dei lavori una donna di 66 anni ritenuta responsabile di omessa verifica tecnico professionale sull'impresa esecutrice dei lavori nel dettaglio sono state elevate multe per complessivi 75.345 euro e sanzioni amministrative per 6.766 euro due denunce a piede libero e una segnalazione in prefettura il bilancio di una serie di controlli effettuati dai carabinieri tra canicattì e campo bello di licata la prima denuncia è scattata nei confronti di una giovane disoccupata canicattinese di 27 anni accusata di avere violato la sorveglianza speciale che prevede l'obbligo di soggiorno e il divieto di uscire da casa propria dalle 20 e 30 alle 7 in quella fascia oraria nel corso dei controlli dei militari dell'arma la donna non era stata trovata in casa e quindi gli investigatori non hanno potuto fare altro che denunciare l'accaduto alla procura grigentina denunciato invece per guida sotto l'effetto di alcol un artigiano di 55 anni di campo bello di licata che è stato trovato alla guida del rasù a renome gun con un tasso alcolemico di 0.99 nel sangue quindi superiore allo 0.5 previsto dalla legge un canicattinese di 22 anni è stato segnalato come assuntore in prefettura dopo essere stato trovato in possesso di 15 grammi di hashish lo stupefacente è stato naturalmente sequestrato nel corso dell'attività dell'arma sono state controllate circa un centinaio di persone altrettante autovetture sei invece le perquisizioni domiciliari e veicolari eseguite inoltre in prefettura da grigento è stato anche convocato un tavolo permanente dopo che era stato siglato il patto per la sicurezza fra il sindaco di canicattia il prefetto maria rita cocciufa ammessi altri 15 bambini negli asili nido comunali il comune di caltanissetta attraverso la direzione settima politiche sociali scuola servizi demografici sport cultura e turismo ha decretato infatti avendo la copertura finanziaria necessaria l'ampliamento dei posti disponibili utilizzando lo scorrimento dell'agrodatoria esistente e dunque sono tre gli asili che potranno ospitare i nuovi ammessi che erano in lista d'attesa cinque per ogni asilo e per l'esattezza quello di santa petronilla cola i anni in via degli orti e pierpaolo pasolini è una promessa che avevamo fatto all'inizio dei primi giorni di settembre quando abbiamo aperto i nostri quattro asili comunali ai bambini che ne avevano fatto richiesta allora contavamo e questo abbiamo adesso ne abbiamo adesso la certezza di ulteriori fondi aggiuntivi per cui abbiamo ampliato e preso e faccio andare quei bambini che erano rimasti di lista d'attesa sono in tutto 15 che andranno a usufruire sui spazi degli asili comunali con questi ulteriori 15 bambini noi abbiamo raggiunto il nostro limite massimo degli spazi vitali e delle risorse fisiche e delle persone che lavorano lì dentro la questione stadio tomaselli tiene sempre banco la domanda adesso che chiedono tutti si addetti ai lavori che i cittadini e quando riaprirà lo stadio il progetto prevedeva un intervento per la realizzazione di un imbiando sportivo polivalente nel particolare il rifacimento del fondo campo in mando di erba artificiale finalizzato al miglioramento dell'impianto sportivo per la pratica sportiva di calcio e rugby abbiamo contattato il sindaco roberto cambino l'assessore marcello franciamore che non ci hanno rilasciato interviste in merito ma ci hanno lasciato questa nota che trattandosi di regolamenti approvati dalle rispettive federazioni sportive ed alconi è evidente che ai fini dell'omologazione il comune di caltanissetta può soltanto ottemberare a quanto richiesto dai vari organi ufficiali sportivi considerando che attualmente le principali squadre di calcio e rugby militano rispettivamente il cambiamento di eccellenza il calcio in serie c rugby è volontà di questa amministrazione dare l'opportunità ad ambedue le squadre di poter utilizzare lo stadio marco tomaselli previa omologazione di ambedue le federazioni tracciando in modo stabile solo le linee del calcio e con vernici pitturate con le rugby è possibile ottenere ambedue le omologazioni e consentire alle due squadre di poter utilizzare i fini agonistici l'inviando del marco tomaselli poiché i pareri e i regolamenti sopra riportati sono successivi alle date del bando il capitolato tecnico deve essere adeguato alle successive valutazioni necessarie ai fini delle rispettive omologazioni trattandosi inoltre di lavori a misura la loro variazione entro certi limitri non pregiudica la validità dell'appalto e lo stesso sono oggi al vaglio dell'ente concedente il finanziamento per la loro approvazione ad oggi non è stato ancora emesso il certificato di ultimazione dei lavori si sfideranno a suon di panature sfrigolanti tra olio caldo pronto per la frittura e il profumo dei condimenti sfiziosi che daranno una scusa in più per assaggiare e gustare una quantità maggiore di uno dei prodotti tipici della cucina siciliana l'arancina o arancino sarei infatti proprio la diatriba tra le due denominazioni utilizzate in sicilia la protagonista della disfida di caltanissetta evento organizzato dall'associazione moto turistica siracusana moto perpetuo community moto nella cittadina nissena infatti domenica 30 ottobre bikers siciliani si incontreranno per un appuntamento con la gastronomia all'insegna del divertimento spesso accade quando ci incontriamo con gli amici palermitani e quando gli amici calanesi ricontrano quelli palermitani che spesso ci si prende un po in giro per le nostre specificità quale di queste specificità fa più ridere credo personalmente da lì che nasce l'idea che proprio una di queste specificità che fa più ridere e questa arancina che addirittura viene fatta in forma completamente diversa rotonda perché devi ricordare l'arancia nella sicilia occidentale appunta perché deve ricordare l'etna nella sicilia orientale e anche a dire il vero nel messinese e quindi a questo punto ecco partiamo da lì partiamo da lì prendiamoci in giro valorizzando quello che noi sappiamo fare che secondo me la via giusta per dare un messaggio sempre migliore di questa terra che va valorizzata e valorizzarla parte da noi quale sarà l'arancina ufficiale dei biker ho detto arancina o non vorrei che fosse l'absos magari un'arancina il più buono della sicilia il più buono del biker ecco facciamo questa gara assolutamente non competitiva ridiamoci su questa è la cosa più importante e la cosa più importante il senso un po di tutta questa manifestazione che sembra essere coreardicamente un senso di antitesi fra due realtà ma invece è una sintesi gastronomica della nostra sicilia e del nostro street food un'iniziativa che si inserisce tra le attività dell'associazione che è un'associazione sportiva dilettantistica fatta da motociclisti riconosciuta da alcuni proprio nell'ambito del mototurismo quindi noi facciamo moltissimo mototurismo mototurismo che decliniamo un po in tutta l'italia ma non solo anche nei balcani e nel nord africa quindi facciamo veramente moltissimi viaggi sempre alla ricerca di chicche di tipo tendenzialmente culturale e in particolar modo di quelle quei tesori di cui l'italia in piena e anche l'estero è pieno che spesso e volentieri vengono un po tralasciati quindi ecco ci piace un po andare anche alla ricerca della sicilia segreta di della calabria segreta e un po di tutti questi posti che sono fuori dai normali circuiti e turistici con una nota sulla pagina facebook della nissa il presidente sergio iacona scrive che a seguito delle dichiarazioni rilasciate al signor massimo ferraro riteniamo doveroso fare chiarezza sulle reali motivazioni delle dimissioni dell'ormai ex direttore sportivo va detto che lo stesso ha preferito dare notizia delle dimissioni tramite testata giornalistica piuttosto che comunicarle alla società sin dall'inizio la società ha messo lo stesso ds nelle migliori condizioni per svolgere il suo mandato tuttavia alla carenza dei risultati si aggiunta la volontà del ds di continuare sulla sua strada ben diversa da quella della società ferraro ha scelto liberamente di continuare a non confrontarsi apertamente con la società di non condividere in alcun modo le scelte con le persone indicate dalla stessa per collaborarlo al solo fine di iniziare un nuovo percorso di miglioramento dei risultati e di una migliore gestione economica sin qui certamente fuori dalle indicazioni iniziali riteniamo altresì doveroso evidenziare che nessun giocatore è stato sin qui allontanato per scelta o decisione della società ieri pomeriggio esclusivamente per loro scelta tre giocatori hanno deciso di non proseguire il loro cammino con la nissa altri due invece su richiesta dello staff tecnico sono stati messi fuori rosa la società nissa rispetta la sua scelta personale e lo ringrazia comunque per il lavoro svolto e per l'impegno profuso mai messo in discussione la società bianco scudata augura al signor ferraro tutto il meglio possibile per il proseguimento della sua carriera la società andrà avanti con un'attenda programmazione che privilegia innanzitutto la coesione tra tutte le componenti societari e una crescita graduale ed equilibrata avevamo contattato il ds ferraro che si è riservato di non rilasciare nessuna intervista in merito un saluto ben ritrovati con le previsioni di traibi meteo nella giornata di mercoledì l'alta pressione continuerà a garantire condizioni di stabilità su tutta italia anzi tenderà ad innalzarsi verso l'europa centrale favorendo quindi una maggiore stabilità anche sulle regioni del nord dove comunque sono attesi dei banchi di nebbia delle nuvole basse che andranno poi diradandosi con l'andare del giorno questo campo anticiclonico è comunque alimentato da calde correnti provenienti dal nord africa che infatti porterà le temperature a raggiungere anche picchi di 30 gradi sulle isole maggiori ma valori attorno ai 26 28 gradi sono attesi anche sui versanti terrenici soprattutto sul basso adriatico e temperature sopra la norma anche al nord qui con clima comunque più umido infatti questo lo notiamo dalla grafica che ci mostrano in italia le prese con il sole ma un po di nuvolosità di tipo basso insisterà sulle pianure del nord si tratterà di foschie qualche banco di nebbia e qui le temperature si manterranno un po più contenute ma sempre sopra le medie del periodo per tutti i dettagli consultate l'app di tribimeteo servizi di pubblica utilità farmacie di turno caltanissetta servizio diurno buonasera via edmondo de amicis servizio notturno marrocco via rosso di san secondo servizio di san secondo